Paura ieri pomeriggio a Eboli per un incendio sviluppatosi nel sottoscala di uno stabile in via Matteotti. La densa coltre di fumo che si è alzata dalle cantine ha spaventato i cittadini della zona che si sono riversati in strada. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, consentendo così ai residenti di far ritorno nelle proprie abitazioni. Ancora da chiarire le cause del rogo. Da una prima ricostruzione si pensa che a prendere fuoco sia stato materiale plastico lasciato nel sottoscala.